Quindi in pratica fino adesso io non ho registrato niente. Benissimo, ricominciamo da capo. Insomma, oggi ho fatto il provino per Ballando Underworld. Sembra che sia andato decentemente, poteva andare meglio. So che ci saranno dei finalisti, io questo non lo sapevo. Ne aspiro a tanto, ne basta andare su rete nazionale. E siccome sto andando a Sorrento per un master dove c'è un signore importante che ha detto o non è detto, che io mi possa interessare solo e unicamente ai primi in classifica. Cioè, se una persona, pur non essendo prima, può interessare, vabbè, io non so cosa sta succedendo perché mi compagno una cosa gialla in alto, comunque, se una persona può interessare, può interessare anche se non è fra i primi in classifica. Quindi questa è la morale. Potrebbe essere che il mio...